Rimini, martedì 20 agosto, prima giornata di meeting. Chiari si respira, scopriamolo insieme. Il titolo di quest'anno lo sai? Sì, allora l'ho già visto stamattina. Se non cerchiamo l'essenziale, allora cosa cerchiamo? No, non è studiato ancora. L'essenziale, riguarda l'essenziale. Ha a che fare con l'essenziale, vero? Qual è il titolo del meeting? Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora che cosa cerchiamo? Prima volta a quel meeting? No, dall'82. E cosa la fa tornare? L'amicizia. La cosa più bella di questo mondo, quella che si gode di più. Mi è piaciuto tutti gli anni, ci torno sempre, quindi per me è un'area che mi piace. Prendo le ferie apposta. Noi abitiamo in Francia e quindi è l'occasione per ritrovare tanti amici. La settimana del meeting per me è proprio una bella settimana, è un punto fermo dell'estate. Ci fa tornare questa estrema ricchezza di incontri che spalancano lo sguardo e aiutano a rimanere sull'essenziale. Cos'è per te l'essenziale? L'essenziale è aver chiaro per cosa uno dà la vita. Quello che mi rende felice. Gesù Cristo. Trovare la bellezza nella semplicità di ogni giorno. E avere un cuore semplice. Per me l'essenziale è un incontro che ho fatto nella vita, che mi permette di guardare la realtà di tutti i giorni, dal lavoro alla famiglia, nella profondità del suo significato. Grazie.